Partiamo per quel che riguarda il nostro mondo axi di questa settimana dal chasing cancellara che si è svolto a Forlì proprio qualche giorno fa nello scorso weekend, qualche immagine fotografica che va a suggellare il grande successo dell'iniziativa, l'inseguimento a coppie ed era una cronometro su un percorso su cui una volta si correva la famosa tendicollo nell'entroterra forlivese, zona castrocaro per la precisione beh una sfida a coppie dicevamo al tempo proprio di Fabian Cancellara che vedete in queste immagini una giornata, una mattinata di festa all'interno di un intero weekend in cui appunto Fabian si è dedicato alla città di Forlì passando anche attraverso i suoi tifosi e anche le scuole sin dal sabato mattina sempre sotto leggi dall'axi, vi ricordo invece per il prossimo weekend la terza tappa del pedalazium in questo caso sarà la Gran Fondo di Cassino, iscrizioni in loco già dal sabato pomeriggio poi alle ore 7 si entra in griglia 8.30 partenza sia della Gran Fondo che del Medio Fondo e anche qui siamo sotto leggi da Axi, così come lo siamo anche per la seconda prova dello Zero Wind Show e terza del Romagna Challenge domenica 28 a Bologna per l'ennesima edizione 35esima se non ricordo male della Gran Fondo 10 Colli con tante novità alcune delle quali collegate proprio al tema della sicurezza 400 addetti lungo il percorso, 13 ambulanze, 22 motoscorte di cui 12 destinati a lungo, 10 al medio ma non vi sveliamo altro su questo perché proprio i rappresentanti della Gran Fondo 10 Colli saranno in studio con noi la prossima settimana Grazie